Ora, i più potenti guerrieri dell'universo hanno anche le armi più potenti. Skeletor, artigli terrificanti contro He-Man pugni volanti. I miei artigli ti ridurranno a brandelli. Provali contro il mio scudo e la mia mazza lutante. Incredibili armi. He-Man pugni volanti e Skeletor artigli terrificanti. Dalla collezione Masters. I dominatori dell'universo. E' un'altra cosa.